ecco la pizza mettiamo anche di questo peperoncino in olio basta di l'olio e spruzziamo poco poco a gocce io preferisco molti piccanti però bisogna fare attenzione è molto forte attenzione questo ovviamente non è ovviamente la pizza la pinza è sempre un pane è una pizza di compromesso che si fa per bilanciare un pochettino la spesa si mantiene abbastanza morbida un po lievito madre e quindi non ci sono proprio le gallerie quelle che uno deve immaginare perché neanche ne varrebbe la pena se queste gallerie esagerate però ci sono tutte quelle che si chiamano al violatore giuste e poi anche morbide perché il lievito madre la rende morbida e gustosa e saponita grazie all'attenzione adesso io preparo dopo poi caricelli con la sardella e poi a seguire finiamo il pane anche oggi è fatta forse pomeriggio se riesco vado in campagna un paio di rette perché devo andare a vedere un po la frutta la verdura eccetera eccetera